musica 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 hola a tutti ragazzi e benvenuto in un nuovo video oggi siamo qui su battlefield 3 in compagnia di con mazup ma tu sei il n***a ma tu sei bianco oddio tu sei il n***a ma questi bisogna notare che c'erano tutte le gopure in testa quindi ce l'hanno i soldi si va bene allora andiamo mazup questa qua è una missione tipo stealth allora passiamo una nuova volta nella porta altrimenti ci baghiamo tu fai così qua tu uccidi quello lì sdraiato a terra io uccidi questo qua in piedi ok dimmi quando sei pronto 1 2 3 grande ottimo ricarichiamo le armi che cazzo guarda quella che cosa guarda andiamo piano eh non stanno guardando il porno oh vieni vieni vai avanti piano oh aspetta aspetta eh io quella a destra quella a sinistra ok 1 2 no 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 vai ti hanno scoperto niente un colpo non è morto quello mannaggia ma tu che hai sbagliato colpo eh infatti un colpo non è morto quello infatti io non ho l'arma oh push eh vieni qua non esca assai marone pure tu oh oh ma non mettiamo anche il coltello cazzo dovevamo usare i cecchini non è così qua vabbè da vero usiamo questa ma che cosa? la prima arma eh un cecchino ma non so se ti dicono ah no no ok andiamo non è proprio un cecchino non è un cecchino non è un cecchino ma il mio è un cecchino ma Gio non sei Gio terrorista di merda andiamo mettiamo uno una volta se no ci porgiremmo non sai ma perchè ho fatto così vieni qua vieni qua stonzo oh cazzo oh arriva un altro mi sa eh lasciamo comunque lì sei morto vero fra sei morto no 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 cosa mi accortare cosa mi accortare ok io scogliere tutta tua famiglia tutta tua famiglia andiamo andiamo eh sei che cazzo c'ha questi il pompone oh stai calmo pure tu oh Gigi oh ciao zio Gigi oh ma ho massato eh ma ho massato ma non mi scassa ti l'ho rotta andiamo oh ma ho massato ci segui ma ho massato ti segui al sicuro ci segui ci segui lei mi manchi tutto andiamo rompere 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 rubere per lui la non ce la c'è a piedi cos'è no chi ce la c'è a piedi il stronz comunque ragazzi che per chi non ha ancora capito siamo qua sulla come si chiama sulle missioni ah ci sono i tizi sopra i palazzi vuoi vedere no devo andare avanti fra ma a noi ci fa camminare dopo io si fra dove abbiamo letto ci studiamo andiamo lì dopo studiamo ci ammagliamo e poi moriamo fra ah cassa di munizioni mi sa donna studiamo oh che cazzo sono le RPG porco giuda devi guardare vicino i palazzi che mi sa che ci sono in cerchina i palazzi non riesco a passare fra eccolo eccolo eh mu donna mia oh dove spara porco giuda vieni qua vieni qua ok ammazzati ammazzati ecco lì ma quanto cazzo ci vuole il femminino cazzarola allora anche quello è morto pure quello è morto non c'è nessuno non c'è nessuno ma c'è un tizio qua mo cadi giusto dove è il tizio oh munizioni munizioni vieni qui oddio guarda guarda oddio volato se è pagato dove ti è volato ma dov'è legge nelle spalle lì oddio stavo registrando io sa che cazzo zero fatica ma tocca di qua ma dove andrò no no troppi troppi merda finito i munizioni vieni qua lo sto io quasi sono nel corso ecco andiamo di qua muorici ricaricare ancora dai 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 oh granate 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 ah fessi solo andiamo andiamo ci vuoi questo il morto carammatico cos'è che stanno facendo boh ok deve essere finito ottimo andiamo andiamo ma dove? giù ma qua di qua stiamo c'è una missione in co-op questa è la terza giusto mazu via terza la terza e la quarta la vedi sul cane di mazu cos'è meno ci dividiamo i compiti io c'è ah ecco io scendo la mette ho visto sotto terra ottimo grande vai avanti ok andiamo avanti adesso ti puoi fare sotto il coso fra qua qua mi sa che ci boh qua in mezzo voglio stare sotto fra fra pensiamo vieni qua vieni qua vieni qua mazu oh guarda pc si porco giuta ma dove minchia è quello oh oh sui palazzi sui palazzi ok l'ho ucciso no no è ancora viva ok vuole ucciso allora porco leggero eh porco giuta ciao in culo st'arma ma che è una cosa assurda c'è ero ero con una pallotta la mia stavo ricaricando oh 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 mi pare che fa una scappola non è morto fai giro che vuole non mi sentisse non è morto oh ma che ca... oh oh eccoli porco giuro ho trovato ciao oh ma che cazze c'è un rincolo incredibile st'arma oh ma c'è qualcuno sui palazzi sicuro no ma ce l'aveva uno qui vicino non ci siamo accorti no ma dei palazzi ce l'aveva a tutti si si è già morto ma chi è che mi spara ma porco chi è ah ma quello stronzetto li amori e dove cazzo sparano non dovrebbero essere finiti ormai no mi hanno sparato deve avere c'è uno ancora lì ma tu ma guardati si stronzo oh saliamo saliamo adesso puoi salire ah questo è mio forse ah che fatti questo è mio con la E con la E E ah è ok ragazzi ci siamo portaci via da qui di qua io andavo ok dai su ci si ti getto guidi gigetto vai 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 ma dovete aiutarti no no io sto dietro sto sentiti spari sono io ti sto mirando di testa non muori io ti sto sparando infatti ma io sono dietro di te che cazzo che cazzo porca puttana l'hai fatto esplorare hai visto ma sono stato io no perché mi si sposta ma chi è che l'ho sparato ah sono questi stronzi moriteci ma è tutto il sterzo ma chi sterzo potete più bordare a noi tutto il sterzo li vedi più bordare a noi che sacco morici stronzo le faccio cascato ma se tu guardo davanti si attio attio barabonzi oh andiamo in chiesa si andiamo in chiesa no non è arrivata non è arrivata no eh no no è così bello guida cioè guida a sparare da da solo poi cosa c'è ci arrivavamo prima più e ci arrivavo fra devo andare in quel punto lì oh non l'ho capito no davvero cassa munizioni ottimo ah piazza c4 oh piazza piazza l'hai piazzato? l'ho fatto ok ma come mi affonco l'hai piazzato? avviso se ne fai spara qualcosa no porco giuda chi che mi spara? c'è qualcuno ah è qua qua porco no raga no raga no ma con me no allora ma quelli dei nostri caramata lì cos'è cazzo no ma lì c'è ancora uno vivo dove? no guarda guarda è nata la bottiglia guarda bottiglia ok si è rotta ancora ah ah chi cazzo guarda lo stronzo con noi devi morire è morto è morto granata lì via vuol dire munizioni c'è bruttissimo con il comandante la linga ah di qua in te nel veicolo vieni 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 non ci sparate stronzi non ci sparate ok questo è una bella arma ok non posso entrare schiaccia eh il taso da tastiera eh porco giuro ah io sono quello l'ostaggio così l'ostaggio oh fra c'è la bomba qui cammina corri stronzo non cammina questo è scemo ciao bastardo dai 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 andiamo andiamo stanno pensando detto ma che pensano quei sapo scemi allora che negozi è questo eh tintoria attenzione ok andiamo qui sotto buoniteci anche male stronzi ok no dove c'è via 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 no qua fra mi sa che qua ci moriamo oh dov'è dov'è la gente dov'è le macchie dov'è difficile sono antiproiettili le arbi sono antiproiettili sei sicuro mazu ma lì si è fuoco scoperto ma su per chi io mi sto cantando non mi stanno girando ma che cazzo aia a me si però porco giuda giù a terra antonio vai una granata così a caso ma ce l'ho un rpg in un qualcosa potente chi cazzo che mi spara eccoli gli stronzi abbiamo 30 dietro 30 dietro dio aia aia 30 dietro ce ne abbiamo ma qui c'è una tv ma maffanculo la tv ma c'è una cecchina almeno lì aia no 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 cazzo l'rpg ma che cazzo gli fanno malissimo appena esco fuori comunque dovrebbero essere morti non è neanche qualcuno eh si qualcuno non succede sono altri 5 la sopra porca puttana porca giuda ricarica veloce dai dai aia aia ma perchè non ok l'ho ferito almeno l'ho ferito dai muorici ok ok ottimo ma quando ce ne stanno ancora sui palazzi dai palazzi porco giuda dai muori ok ok dai oh ma ci sono altri ma da dove cazzo mi sparano ok dovremmo aver finito forse oh merda no ma da dove ci sparano lì non c'è nessuno oh merda eh vabbè vai vai poche esplosioni beh meglio moriteci voi stronzi dai dovrebbe essere finito ecco lì ecco lì dove li vedi? fra mi rincoglio sto io li vedi oh merda cazzo sai che non era meglio che veniva da lì madonna ed è piccolo le 12 a metà giorno viene capito? ho vinto però non so dove siano e a metà giorno viene e quello ci fa il culo apro il fuoco a linguaggiare oh il nostro elicotto è il nostro quello vai che cuore il nostro elicotto oh pezzetto sforiamoli sforiamoli dove sembri cosa? all'elicotto bolloso nek 6 pacchetto in uscita nek 6 pezzetto rendi sicura la restazione dove sono? aspetta andiamole il simbolo del eh lì l'estazione 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 sali 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 correre 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 raga missione compiuta speriamo eh mi sa che si si battano beh no non ci possono battere adesso spagliamoli così ok raga missione finita 15 minuti manco tanto eh per fortuna beh ragazzi 10.000 punti questo video finisce qui la prossima missione sarà sul canale di mazuv quindi passate anche dal suo canale quindi tutti a terra sarà aspetta si 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 no questa non fa morde e fuggi abbiamo fatto no morde e fuggi già abbiamo fatto no fra morde e fuggi abbiamo fatto l'equazione appunto bene ragazzi ci vediamo morde e fuggi sarà nel mio canale ci vediamo nel prossimo video ciao ciao bella ciao